Tutto a me, eh? In questo posto alla conferenza stampa del Festival di Sanremo presentano l'attore Pierfrancesco Favino. Sentiamo! Il lettore artistico Claudio Baglioni accompagnato da Michel Unziger e Pierfranco Fasino Ma ha sbagliato a chiamarlo! Pierfranco Fasino Che peccato! Anzi, che piccato! Ringrazio l'assessore... È vero che qui si sta... Perché sono diventato Pierfranco Favino ed è... Da questo momento in poi chiederei... L'assessore si chiama Sarlo è una delle cose che deve sapere e sono diventato Pierfranco Favino Uno dei motivi per cui io faccio Sanremo è che finalmente mi chiamino Favino Nel cinema si è fatto un nome In tv ne hanno dato un altro Pierfranco Fasino È il quinto posto